Problemi di salute? Non hai rinnovato la patente? Nessun problema! Abbiamo il veicolo che fa per te! Freedom 2, lo scooter cabinato, simile ad una piccola auto, comodo da parcheggiare e super accessoriato. Freedom 2, lo guidi anche nelle piste ciclabili, nei centri storici. È elettrico e non serve la patente. Ora, c'è Freedom 2, ecologico, 100% elettrico, disponibile in tanti bellissimi colori. Ti aspettiamo da Carrara Automobili, nei due punti vendita di Borgo Ricco e Torri di Quartesolo. Visita www.carraraautomobili.it